Ancora buon viaggio, ben trovati, muoversi in Toscana, Mauro Ciutini in studio, tre chilometri di coda adesso sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra lo svincolo Ponte d'Era-Ovest-Ponsacco e Montopoli-Valdarno in direzione Firenze, in direzione Livorno, anche qui rallentamenti, siamo allo svincolo Ponte d'Era-Est in uscita. Code anche in A1, segnalate tra lo svincolo Calenzano-Sesto-Fiorentino e l'allacciamento A1 variante in direzione Nord in direzione Bologna. Traffico ancora lento sui viali di Firenze, via Guido Monaco, via Le Redi, via Le Belfiore, via Le Strozi, via Le Milton, via Le Fratelli Rosselli. Due camper service in A1 fuori servizio, l'aria Chianti-Ovest in direzione Napoli, mentre in direzione Milano quella di Badia-Alpino-Est. Chiudiamo con i treni, 62 minuti di ritardo per l'Intercity 594 da Trieste a Roma. L'arrivo previsto a Chiusi-Chianciano-Terme alle 20.42. Muoversi in Toscana grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.